Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continua il corso introduttivo ad Adobe After Effects Quest'oggi parleremo delle maschere L'argomento è molto, molto complesso perché con le maschere si fanno tantissime cose in After Effects e il concetto di maschere è un concetto in realtà non specifico di After Effects ma è un concetto proprio della fotografia prima, del cinema poi e ovviamente degli effetti speciali oggigiorno è un concetto però talmente importante che vi permetterà in futuro di fare cose anche molto avanzate molto, molto complesse Prima però vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it sito internet dove troverete gli articoli di questi corsi, di questi video tutorial troverete ovviamente l'indice completo di questo corso introduttivo ad Adobe After Effects troverete anche il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro se volete imparare ad utilizzare quel software per montare le vostre clip video e ovviamente se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi video tutorial e cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi mettete un like e teniamoci aggiornati Bene, iniziamo con la lezione di oggi parlando appunto delle maschere Io mi metto nei panni di chi non ha mai utilizzato After Effects e non ha molta dimestichezza con la fotografia piuttosto che con software di editing fotografico come Photoshop quindi mi metto nei panni di chi non ha mai sentito parlare di maschera per spiegare semplicemente cos'è e vedrete che una volta compreso come se è una maschera da soli capirete quanto sia fondamentale per lavorare con la grafica per lavorare negli effetti speciali eccetera eccetera Nell'articolo legato a questo tutorial ho voluto inserire un video trovato su YouTube tra l'altro dove vengono mostrati gli effetti speciali quando ancora addirittura nel cinema non esisteva il suono in altre parole nel cinema mutuo Il video è molto molto divertente cercatelo, c'è il link ovviamente sul sito internet e mostra come Charlie Chaplin ma anche altri altri grandi artisti del cinema mutuo utilizzassero già oltre cent'anni fa delle tecniche qui ne vedete una molto semplici per creare l'illusione di qualcosa che in realtà non esisteva guardate questa scena il protagonista sembra quasi che sta per cadere nel vuoto ma in realtà viene mostrato quello che poi è un mascherino ecco, il concetto di maschera può essere spiegato molto bene da questa sezione del video ecco, qui vediamo, mi sembra che sia Charlie Chaplin che sta lì per cadere nel vuoto e qui viene svelato il trucco praticamente una maschera un oggetto va a limitare il campo di azioni va a sovrapporre una seconda immagine in uno spazio che in realtà è perfettamente piano e chi guarda il video ha l'illusione chiaramente che il nostro protagonista sia sul baratro e stia chiaramente per cadere ovviamente non è così e grazie all'utilizzo dei mascherini come potete vedere ecco, viene creata l'illusione di qualcosa che in realtà non c'è ora, è inutile qui fare troppi altri esempi magari vediamone un altro ancora ecco, questo è ancora l'esempio di prima fatto di vedere guardate questo esempio molto bello vedete come questa ragazza sembra riesca a muovere i due occhi in maniera completamente indipendente l'uno dall'altro ovviamente c'è un trucco viene messo un mascherino che nasconde una porzione di immagine e viene registrata questa ragazza viene spostato il mascherino per coprire l'altra porzione di immagine le due immagini poi chiaramente vengono sovrapposte ecco, torniamo un attimino indietro se riusciamo e c'è l'illusione perfetta di questa ragazza che riesce a muovere gli occhi in maniera completamente scoordinata ecco, rivediamo ancora rivediamo ancora questo esempio ok? ora, ovviamente sto molto semplificando per permettere davvero a chi non ha mai sentito parlare di maschera di comprendere di cosa stiamo parlando nel prossimo video tutorial apriremo Adobe After Effects e inizieremo a creare le nostre prime maschere ricordo www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'articolo con questi video e anche altri corsi corsi di montaggio video con Adobe Premiere ad esempio iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial se vi fa piacere ovviamente cercatemi su Facebook la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi grazie ancora al prossimo tutorial ciao